Siamo alle pagine sportive insieme per questo venerdì 12 maggio, ovviamente si guarda alle gare del weekend con un sabato da brividi per Perugia, Ternana e Gubbio, le tre squadre professioniste Umbre per motivi diversi. In Serie B il Perugia, rush finale da brividi di scena a Latina, con l'orecchio puntato anche a quanto accada a Benevento, tra Benevento e Frosinone e la speranza di rosicchiare almeno un punto ai Ciociari per abbassare quella quota a meno 10 che escluderebbe i playoff. Il grifo si gioca tutto al Francioni, tifosi presenti al gran completo, quasi terminati, 400 tagli anni a disposizione dei Biancorossi. C'è Nasca, l'arbitro cercasi, primo successo col direttore di gara Barese e intanto Baroni e la gara tra Benevento e Frosinone, Baroni l'allenatore del Benevento, giocheremo con coraggio, assicura il tecnico anche perché Benevento a sua volta in corsa per i playoff ha tutto l'interesse a fermare i laziali. E poi Ternana, Liberani più sereno, Falletti e Defendi ci sono, giocherà contro la capolista Spal che vuole festeggiare la Serie A proprio al Liberati, ma la Ternana deve fare punti per salvarsi. Il Gubbio invece, partita da dentro fuori domani alle 15.30 con la Samb, Maggi scioglie gli ultimi dubbi, tutto pronto per il primo incontro playoff, speriamo il primo di una lunga serie, con la Samb Benerettese. Ricordiamo domani chi perde è eliminato e chi vince prosegue, in caso di parità passa il Gubbio per la migliore classifica in campionato. E poi un ex Gubbio che invece non fa parlare bene di sé, Ivan Cacchioli, portiere, botte all'arbitro, un anno e mezzo disqualifica per lui, che difendeva la porta dell'atletico Orte. Palla a volo, Monini Spoleto suona la riscossa, Castellana costretta la bella, grandissima prestazione degli spoletini di coach Provedi che battono i pugliesi. E vanno in gara 5, chi vince nel weekend sul parquet pugliese sale in serie A, che oggi si chiama Superlega e nel caso della Monini sarebbe un ritorno dopo molti anni e un nuovo derby con Perugia. Lasciamo la nazione, andiamo al Corriera dell'Umbria, Bucchi e il grifo Camaleonte. Il tecnico è riuscito a costruire una squadra che sa cambiare pelle in corsa e la sua forza da quando in emergenza per la gara in casa dei Pontini si lavora per un 3-4-2-1 che può trasformarsi in 4-2-3-1. Intanto Gnaurè non ce la fa, siamo a Terni, parole dolci di Coppola, Perli, Verani, ci fa lavorare il sodo ma sempre con il sorriso. E poi un ex, un doppio ex, Alvaro Arcipreti, è stato a Gubbio ma anche a San Benedetto del Tronto, analizza la gara di domani. Gubbio omicidiale nelle ripartenze, dice, un'esperienza poco felice nella città di Ceri, un'eccellenza vinta e un terzo posto con i marchigiani. Ecco il pronostico di Alvaro, occhio a Mancuso e ai mille tifosi al seguito, dice Mancuso, capocannoniere del campionato. Si rivedono il portiere Aridità e l'altro ex Radi in difesa, San Benedettese, che è in ritiro a Rocca-Porena. Questo per la gara del Gubbio che domani, vi ricordo, seguiremo in diretta radio. Poi ovviamente troverete il servizio della gara sul nostro sito trgmedia.it. La prossima settimana torneremo con una puntata speciale di Fuori Gioco. A Foligno c'è la grana Vis, esclusi dalle decisioni. Parla Releonardo Pinna, peccato ci facciamo da parte, il nuovo progetto per il Foligno Calcio perde un altro pezzo, restano Santeraclio e Folignalità. Mercato, le prime idee sono Armilei, Ginai e Batini. Cerquetto non è razzista, quelli non sono tifosi. L'ammenda di 750 euro è inflitta alla società perché, si legge testualmente, i sostenitori internavano cori connotati alla discriminazione razziale. Ma c'è la protesta del presidente Pierettica, condannato l'accaduto, ma non vuole che si generalizzi. Questo per il calcio. L'eccellenza, il re è di Domenico Antonio, lo chef che tifa Roma, ha battuto De Julis nelle classifiche dei rendimenti. Comunque De Julis, figlio d'arte, che è arrivato subito dopo di lui in forza alla Fontanelle Branca. Palla a volo, voglio vincere con la Siera, dice Ivan Zaitsev. Qualcosa di particolare mi lega all'Umbria, ora ci sono tornato più maturo. Stagione super per Città di Castello in corsa per il ritorno in A2. Si comincia domani da Montichiari. Ed è Becchetti, il gigante del judo, l'Umbertidese campione italiano assoluto. Una cicatrice mi ha fatto passare dalla piscina al tatami. Non l'ho lasciato più. E anche il Corriere celebra la Monini Spoleto. Tenere la notte, batte Castellana Grotte. E ci fa anche rima. Vola a gara 5, finita 3-0 a promozione in Superlega. Si decide domenica in Puglia. Questo per la pallavolo. Noi chiudiamo con il messaggero, questa nostra pagina sportiva. Grifo, occhio al trappolone. Perugia sul campo del Latina. Retrocesso puoi, deve centrare il bersaglio, ma guai a ritenere che sia facile. Ad esempio il Latina sabato scorso ha imposto il pari a Brescia, raggiunta solo nel finale. Ed era già retrocesso. Insomma una squadra che vuole chiudere a testa alte. Biancorossi chiedono strada a tre ex che alcuni non hanno sfondato. De Giorgio Insigne, buon aiuto. E poi la Sire, Bernardi rimane ma il contratto è a metà. Trionfo Monini, Castellana asfaltata 3-0 e si va a gara 5. La Ternana corre come la spalla. Domani testa corre la determinante per entrambe le squadre. Mentre c'è una stoccata di Coppola all'ex tecnico Gautieri. Sette giornate senza allenatore. Poi abbiamo ritrovato la strada giusta. Insomma non è proprio un complimento per l'ex allenatore della Ternana che è stato appunto sette giornate ma evidentemente Coppola non se ne è accorto. È tutto per questo appuntamento con l'informazione che andrà in replica fino alle 10.30 su questa emittente. Lo troverete alle 8.30 su RGM. Più tardi anche sul sito trgmedia.it. Informazione che torna alle 13.30 con la replica del TRG Plus e stasera torna alle 19 con i nostri TG Provincia Comprensorio e con l'approfondimento del TRG Plus. Da parte mia è tutto. Vi ringrazio. Vi ricordo ovviamente fin d'ora l'appuntamento con le trasmissioni dedicate alla Festa di Ceri il 14 maggio domenica la diretta del Campanone alle 19 e a seguire la puntata numero 6 dell'attesa con la Festa di Ceri 2016 che vi terrà compagnia fino al giorno successivo quando 15 maggio ovviamente seguiremo la giornata per eccellenza degli Ogubini e degli Umbri intesa appunto come festa simbolo della regione a partire dalle 9 fino alla serata con una lunga diretta anche in streaming su trgmedia.it io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie.